Le dà fastidio una cicatrice sul viso? Oppure non le piace la grandezza del suo naso? Come può eliminare la cicatrice oppure ottenere il naso dei suoi sogni? Ce lo spiega il dottor Hans-Jörg Hoch. Dottor Hoch, lei è il direttore dell'Istituto di Chirurgia Estetica qui nel Didliaco Samedan. Quali sono i campi di specializzazione? Di formazione sono ottorino laringoiatra, ma da circa 20 anni ho iniziato gradualmente a specializzarmi nella chirurgia estetica. Facciamo tutti i possibili interventi del settore, plastiche labiali e in particolar modo plastiche nasali di ogni tipo e ottoplastica. Ci occupiamo di cuscinetti adiposi al mento e sempre di più anche di quelli a pancia e cosce. Tutto però nell'ambito che rientra nel nostro sistema. Quando l'intervento di chirurgia estetica è sensato? Ha senso quando si manifestano fattori di disagio. Quando la paziente riscontra qualcosa che le crea disagio ogni giorno e ogni volta che si guarda allo specchio, pensando che quello sia il motivo per il quale non è bella. La bellezza però non conta, perché è una questione di carattere. Ciò che noi possiamo fare è l'eliminazione di questi fattori di disagio che danneggiano la stima di se stessi. Cosa distingue il suo istituto? Credo che grazie alla lunga esperienza anche nell'ambito della chirurgia traumatologica ci siamo potuti concentrare sulle cose fondamentali da integrare in un istituto familiare. Possiamo dedicare più tempo ai singoli pazienti e mia moglie è infermiera di sala operatoria. Non abbiamo fronzoli tipo orchidee in bagno e abbiamo più tempo da dedicare alle esigenze dei pazienti prima e dopo l'operazione, anche a lungo termine. In questo istituto di chirurgia estetica sarà trattato con serietà e professionalità. Per City Guide da Samedan, Sonia Valero.